È durata cinque giorni la caccia e camionista che ha travolto e ucciso Natalia Cristante in sella alla sua bicicletta. È un cinquantenne italiano autista di un'autocisterna. I carabinieri sono riusciti a risalire al mezzo grazie agli elementi rivenuti sul luogo dell'incidente e alle telecamere della zona. L'autocisterna è stata identificata in un orario compatibile con quello dell'investimento e presentava tracce con ogni probabilità di sangue umano. Tracce che verranno esaminate anche dal RIS dei carabinieri per verificare se il DNA è proprio quello dell'81enne friulana residente a Teglio Veneto. L'autista del mezzo pesante sarà presto iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso. Alle prime domande dei carabinieri ha riferito che non si sarebbe accorto di nessun impatto mentre percorreva la provinciale 93 in via Udine in località Portovecchio direzione Portogruaro, una strada molto trafficata. Ad avvistare il corpo della donna riverso a terra a bordo strada ormai privo di vita, mentre le auto sfrecciavano a tutta velocità all'altezza dello svincolo per la ferrata un'automobilista in transito che ha subito chiamato i soccorsi. La notizia in poche ore è arrivata in paese a Teglio Veneto. Speriamo che questa persona paghi per quello che è successo perché noi siamo vicini a tutta la famiglia che è molto dolorata per quello che è successo, un fatto molto particolare, molto grave anche per una piccola comunità come la nostra dove questi casi rimbombano molto perché fanno molto scalpore. Una persona che era molto ben voluta dal paese, molto conosciuta e quindi chi ha fatto questo atto speriamo paghi per quello che ha fatto. La vittima originaria di Cordovado era molto conosciuta anche per un passato come volontaria in aiuto dei bisognosi e poi a Cordovado dove vive tuttora la sorella. Le indagini coordinate dalla procura di Pordenone proseguono con l'autopsia disposta sulla vittima affidata al medico legale Antonello Cirnelli.